Il presidente della regione, Rosario Crocetta, sarà capolista del collegio Enna Caltanissetta a sostegno di Gianni Cuperlo. Ad anticiparlo, nella tarda serata di ieri, Enzo Napoli, coordinatore esecutivo del regionale del PD, che si mostra soddisfatto nell'apprendere la notizia. Il sostegno del governatore della Sicilia allo sfidante di Matteo Renzi e Giuseppe Civati per le primarie dell'8 dicembre ha spiazzato un po' tutti, soprattutto se si considera il recente appoggio del presidente della regione al candidato renziano Carmelo Miceli, divenuto segretario del PD in provincia di Palermo. Ma, d'altro canto, la scelta di correre al fianco di Cuperlo era stata già ventilata negli ultimi giorni, in cui il presidente ha scaldato i rapporti con l'ala siciliana del PD più a sinistra, con la quale ha appena concordato i profili della riforma delle province. Quindi adesso il presidente della Sicilia si schiera nell'area di Essina del Partito Democratico. Della stessa lista farà parte anche Antonello Cracolici e probabilmente anche Congetta Raia. Non sarà invece nell'elenco Mirello Crisafulli, anche se lo stesso è fra i sostenitori di Cuperlo. Si tratta, come spiega lo stesso Cracolici, di un elenco di candidati che andranno a comporre l'Assemblea nazionale del partito insieme al segretario. La scelta di correre al fianco di Cuperlo è peraltro in linea con la tendenza dei circoli siciliani, che hanno premiato proprio Cuperlo, un dato in controtendenza rispetto al dato nazionale, dove invece ad averla meglio è stato Renzi.